Quando ho letto le sceneggiature già ero molto infarinato, perché ne avevamo parlato tanto con chi mi ha presentato il progetto, mi sono andato a vedere quegli spagnoli, ho chiamato un po' di amici che ho in Spagna, comunque contatti per capire cos'era sta serie, ogni telefonata che facevo erano gran risate, e quindi quando ho letto la sceneggiatura conoscevo già abbastanza la storia, e poi però leggendola mi sono reso conto che si riveva tanto, insomma, a me la cosa che più mi ha attirato, che mi ha convinto a farlo era il fatto che comunque il fatto commedia era importantissimo e funzionava già dalla scrittura. A far innamorare un po' tutto il pubblico, un pubblico vastissimo, fatto di bambini, di grandi, di ragazzi, perché tutto quello che è stato raccontato è stato raccontato con una grandissima grazia, con una grande onestà, con una certa delicatezza, da tutto un gruppo di lavoro veramente bellissimo, di persone dotate tutte di grandissima sensibilità. Penso che nella mia carriera Lucia sia forse il personaggio più vicino alla vera Elena Sofia, perché è una mamma, perché è una mamma che pensa di conoscere le regole per essere una mamma, diciamo, passabile, e ovviamente, come tutte noi mamme, poi sbagliamo. È stata una bella sfida, io mi sono emozionato tantissimo. La prima volta che abbiamo fatto una prova di trucco, con la pancia, mi sono quasi uscite le lacrime, è stata una bella sensazione, è stato veramente bello. Beh, io penso che sono in tanti a invidiare l'amore che c'è tra Marco e Eva, no? Perché i cesaroni piacciono tanto? Anche per questo, perché Marco e Eva rappresentano questo amore vero, è pulito, è sincero, quindi è un bel amore. È bello sognare, è bello vedere qualcosa che è sempre più raro nella realtà, e quindi per Marco è bello fare l'amore con Eva. Ho letto che un copione dei cesaroni non era un copione definitivo, era un copione così, un po', per farci capire come si muoveva la casa, tant'è che avevo pensato di lasciar perdere, perché dico mamma mia, ma che è sta roba? Poi invece mi sono fidato del regista, mi sono fidato di Claudio Amendola, che già era nel cast, e ho pensato, insomma, queste sono persone di buonsenso, pure sta produzione, e l'hanno corretti completamente, e poi sono diventati questi copioni. Vieni, belli, ricchi, interessanti, vieni di lì. Nei cesaroni ci sono piacevolmente invecchiato, nel senso che tre anni sembrano pochi, ma poi sono tanti, perché se io vedo le prime puntate, mi accorgo che già non sono più quello che sono diventato adesso, già non ero più, oggi come si dice, mi sono spesso casicato con i verbi, comunque il senso l'avete capito, insomma, ho iniziato con i capelli corti corti, adesso ce l'ho lunghi lunghi, senza una ruga, ora ce l'ho, e poi però mi sono venute queste qua, che sono le rughe della risata, perché grandi ritmi, grande lavoro, perché insomma, comunque, i cesaroni non è pizza e fighi, come si dice a Roma, è un lavoro importante, che mi ha fatto bene, e quindi dalla mattina alla sera si fa quello, però almeno ci siamo divertiti tanto. Sai cosa c'è? C'è un mondo nuovo, qui ti aspetta solo noi, adesso che ci siete voi. Sdraiato al sole, con lo sguardo perso ad indagare il blu, lo appassorido e ci sei tu, in sette si sta bene, e soli non si cambia mai.